Ora non fa più paura la granata della prima guerra mondiale ribattezzata Stella Cometa scoperta a febbraio durante i lavori di scavo per la fognatura in via Roma a Cismondelgrappa. Ci sono volute sette lunghe ore di lavoro per despolettare l'ordigno bellico, sette ore durante le quali la vecchia bomba ha tenuto con il fiato sospeso il paese della Val Brenta. All'opera i militari dell'ottavo reggimento Genio Guassatori paracadutisti Fongore di Legnago. Si tratta di una granata d'artiglieria del primo conflitto mondiale, fabbricazione italiana 305 mm che ha un contenuto di circa 35 kg di esplosivo. Le operazioni stanno procedendo regolarmente, siamo nella fase di neutralizzazione ovvero di separazione dell'esplosivo da quella che è l'organo sensibile ovvero la spoletta che in questo caso particolare era armata e non in sicurezza. Per tale motivo le operazioni sono state condotte sul posto e non è stato possibile movimentare l'ordigno. Attivato all'ex municipio di Vastagna il centro di coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo. Il Bomba Day è iniziato alle 7 con le operazioni di evacuazione delle 300 persone residenti dentro l'area rossa. È una macchina abbastanza imponente perché vengono impiegate oggi tante risorse, non solo i militari del reggimento Guassatori che sono direttamente impegnati nelle operazioni di sinnesco ma soprattutto tutta la macchina di protezione civile perché come ha detto l'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza le aree interessate. Bloccata la Val Sugana ferma la circolazione ferroviaria, il via libera alla riapertura è stato dato alle 15.30 dopo che Stella Cometa è stata svuotata e la spoletta fatta brillare. Tutto è avvenuto sul posto all'interno delle strutture predisposte dai militari dell'esercito, non si è reso necessario il trasporto della granata fino alla cava di via Cavico a Rossano Veneto e così Cismondelgrappa può dire definitivamente addio a Stella Cometa.